Madonna, i ragazzi guardate che ha aperto, guardate qua, oddio mio, ma in Europa si trova sta roba Matteo, questo mi ha scioccato, guarda Ti ha visto? Oh, trovo che ha scadato la sedia questo qua Madonna mia, aspetta, aspetta, che cazzo, alzala, alzala Dacci quanto cazzo è buona, porca mignotta, fronzo, maledetto Eccoci qua Se magna, se magna Amici di Bracciami Ancora, oggi un video che volevo fare da secoli Mettere a confronto, ragazzi, la carne più marezzata e grassa del pianeta La Kobe, direttamente dal Giappone, con la carne più marezzata d'Europa La scuola orientale contro la scuola europea Il Kobe contro la Hanami Voi direte che è la Hanami, tra poco lo scopriremo Intanto vi presento gli amici che mi accompagnano in questo viaggio Fabio Galli, eh, sono qua E Francesca Ciao, ciao, ciao Inseparabile amica, diversami ancora Che avrà un compito molto interessante E stabilire quale vini abbinare a queste due carni estremamente amarezzate Ne ho parlato decine di volte Lo abbiamo assaggiato decine di volte Ma non l'abbiamo mai messo a confronto, ragazzi, con un competitor europeo Perché ogni volta che ho fatto un video con il Kobe, il Kobe stava per cavoli suoi Oggi lo confrontiamo Beh, inutile che ve lo dico, ragazzi, qui l'ammarezzatura è tanta Ma questa è una carne famosa per la sua grassezza Eccola qua Fabio, scusami, il costo al chilo di questo giochino? Un 180 200 200 euro al pro Bene, oggi, ragazzi, il nostro Kobe sfiderà la Hanami Io già ci ho fatto un video sulla Hanami Eravamo sempre insieme a Fabio Questa è la prova del Coopero Questa è una marmorizzazione Mordashi, quanto è buono Grande mamma tu Però, riassumiamo Ti chiedo, innanzitutto, aspetta, ti chiedo Sì La genesi di questa selezione La genesi è sugli animali da latte Che noi andiamo a importare in tutta quanta Europa Il discorso è che riuscire a trovare un animale di così tanta amarezzatura È una selezione delle selezioni Che parte dall'allevamento E poi parte dalla macerazione E dalla selezione di ogni tipo di animale Il discorso qual è? Farlo così, che non è una carne gobbe Vi assicuro che è estremamente complicato e compresso Entrano tanti fattori Che può essere l'alimentazione La cura dell'allevatore È un allevamento estremamente distensivo Però scusami Tu, per trovare questa in giro per tutta Europa Devo girare come la prima maia Devo girare come la prima maia Qual è la nostra ricchezza? Sono gli allevatori Gli allevatori vanno intervistati uno per uno L'allevatore capisce insieme a me Qual è l'animale che poi una volta macellato Tira fuori questo tipo di animalezzatura Devi andare a intervistare chi produce Francesca, un po' come è che capita quando tu vai in giro per vigne Deve dobbiamo vedere Questa è certo È certo È il produttore Chi lo fa? Chi lo fa? Perché il vino si fa in vigna E la carne si fa in stalla Allora, innanzitutto fare un video su questo confronto Per me è una cosa strepitosa Farlo con Fabio Galli Grande professionista di questo settore Ancora meglio Non vi ho detto però due cose tecniche Uno, io, Fabio e Francesca siamo tutti e tre tamponati Ci siamo fatti il tampone esattamente 15 minuti fa E siamo tutti e tre negativi E poi grazie a questo ristorante pazzesco Che è La Querida Sì, a Castelfusano A Castelfusano Stiamo vedendo Roma Sud Bellissimo posto strepitoso Che serve la tua carne Certo, ovviamente Non sarei neanche entrato Quindi chi se la vuole mangiare ragazzi può venire qui Bene, direi che iniziamo a fare questo confronto Ci spostiamo in cucina Cucini Day Quello che volevo far notare La similitudine fra l'amerezzatura della Kobe E di un animale da latte Per far capire quanto è avvicinabile a questo gusto Ma qui abbiamo un valore in più Che è la frullatura Che la carne giapponese Chiaramente Venendo sotto vuoto dall'altra parte del mondo Non riuscirà mai a capire Perché al massimo è wet È wet, è inumido E la frullatura si fa dry C'è una differenza di colore Sì, chiaramente Allora, la differenza dipende dall'età dell'animale Probabilmente questo è un animale molto più giovane Ma se poi andiamo a vedere L'ulteriore Questa è una scottora Andiamo a vedere la vacca Questa è una vacca danese Il colore è ancora diverso Bello, bello Chiaramente E qui riusciamo ad avere vari gusti all'interno della selezione Anami Chi preferisce un gusto più forte e più intenso O un gusto più leggero Se fosse un confronto tra auto Allora, tra auto questa sarebbe una Range Rover E questa forse sarebbe una Porsche Cayenne Per far capire la differenza fra una carne che ha una sua artigianità e una sua storia Mi piace sto paradrone E la Mudaiola Cobbe Molto più standard nel gusto Io però oggi e Francesca siamo la garanzia di qualità Perché qui sarebbe di oste come il vino è buono E noi ovvio che è buono Io e Francesca saremo garanzia di qualità Ma oltre a essere io e lei garanzia di qualità La fuori ci sono dieci fan di Bracciami Ancora Che hanno raccolto il mio appello su Instagram Perché se volete partecipare a queste nostre deglustazioni Ragazzi ci dovete seguire su Instagram Mister Galli, allora questa cos'è? Una bianca e rossa danese Fantastico Questa? Bianca e nera polacca E questo è il nostro coper E questo è il nostro coper Taglia Uno, due, tre Ce la mangiamo noi Abbiamo chiacchierato fin troppo Andiamo a mangiare Ragazzi qui non resisto Io qui non rispondo più di me ragazzi Guardate che ha aperto Guardate qua Dio mio ma in Europa si trova sta roba Sì Bisogna saperle cercare Maledetto di un Galli Che trova queste cose Amici giapponesi Io ancora non vi ho assaggiato Non ho fatto il confronto Ma mi aspetto davvero tanto da questa roba Fra Perché non vai fuori Le nostre amici Ti abbracciano ancora I nostri fan E gli fai vedere le carnette Che mangeranno tra poco Gli faccio vedere le carnette Ce la fai questa sfilata di moto Dai Mamma mia Vado Allora ragazzi Questa è la carne che mangerete La facciamo vedere velocemente Basta Ce ne andiamo Basta Ce ne andiamo Basta Francesco Matteo Questo mi ha scioccato Guarda Che ti ha visto Tra poco a scalare la sedia Questa qua Vabbè noi andiamo a cucinarla Ciao Ciao Buon lavoro Tu cucini Io faccio tutto La macellaretto E io ghiacchiero E chi mangia? We are working for E chi mangia? Io c'ho una fame atavica Dai Le proteine ci sembrano Vado veloce Dove la ventonaia Bianca e rossa Oh Danese Vai L'animaletto scottoncina Bianca e nera Lucida Lucida Working for Wow Volevo un attimo soffermarmi su questo dispositivo di cottura Che usano in tante cucine Non è brace Va bene Però sopra c'ha delle Sopra che c'ha? La resistenza Sono veloceraniche Questo è un tipico concetto americano di cucinare Se andate da Peter Luger a Nova York Hanno questo Guarda 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 questa com'è più intacchiosa Questa ha già cacciato fuori parecchio grasso Già sudato Questa sta sudando Questa sta sudando Vi posso assicurare ragazzi Che è un gran bel vedere E un gran bel sentire Mamma mia Rimettevo dentro? Direi che è prefumino Vai Buona bestia Mamma mia Aspetta aspetta Alza l'alza No no alza A fronte camera Falla vedere Lasso a fronte camera Viglio mio ragazzi Questo è il cove Vai Poi c'è la tua Bianca e rossa Bella Mi piace Mi piace E la nostra Bianca e nera Guarda quanto è piccolina È un amoruccio Molto carino Guarda dentro Riccino Gira Lo faccio fare? Brava Sì Il Dream Mark Sì perché questa va per l'altro Ha anche la pietra in ghisa Che fa da polano termico Tu sai Il polano termico è fondamentale Ci siamo ci siamo Dai vai vai La carne si sta riposando Io intanto mi apro le bottiglie Bisogna sempre testare prima Franceschina Allora Metteresti il tuo nasino Sotto le tre bistecche In maniera tale Che così inizi ad orientarti Posso iniziare da questa? Vai 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 In questa Che ci senti? Dimmi Allora Così Ti devo dire Che Intensità Così Da questa più intensa Questa più intensa Qui ci senti un po' di panna cotta Un po' di burro di caramello Sì Molto più dolce Molto più dolce È bellissimo Un naso allenato a riconoscere Centinaia di sfumature nei vini È bellissimo Quando si confronta con un'altra Categoria merceologica Con la carne Voi dovreste capire La mia estrema mostruosa felicità Che non riesco a nascondere Ci abbiamo fami Dai 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 Io comincio a farti un bel taglietto Una coppetta E ti taglio un pezzettino Che cottura gentile Che cottura gentile Poi Senti che buio Senti che buio Guarda che buio Senti e guarda che buio Ma senti Guarda Allora Quello che mi è interessato molto Che poi non vedo l'ora di fare È assaggiare la carne Con il vino che ci consiglierà Perché chiaramente Il palato da questo punto di vista Secondo me lo mandiamo alle stelle Assaggia te Così ci rifletti Vado Il tempo di sì E questa è solo È partita È partita con la Nami E questa è solo la prima Bianca e rossa danese Ok Hai assaggiato la Nami danese La selezione di Fabio Vai con Vai con la bianca e nera polacca Vai da sola Che se no Rispi a coltello Vai con le mannine sante E stiamo salendo così Bene Vado Vai col cober Vai col cober Fermi tutti Fermi tutti Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Cioè se siamo alla ricerca Della marezzatura Della grassenza Del sapore Assolutamente Ha vinto questa Vero Allucinante Partiamo da questa No partami da qua Mi parti da qua Ah ti parto da qui Vado Ah scusa Se uno sta carne la volesse comprare Che deve fare? Facile facile Il nostro sito Gruppogalli.it Sessione clienti Sì E troverete tutti i ristoranti E le macellerie In tutta Italia Che prendono la nostra merda Ok Nella nostra selezione Allora Creiamo un codice acquisto Bracemi ancora Ci mancherebbe la Chi la compra Non gli facciamo sconti Perché io so contro Quegli sconti micagnosi Del 5% Del 6% Però io fai un regalo Facciamo un regalo Molto più vantaggioso Perché lo sconto È impalpabile Noi vi facciamo assaggiare Volta per volta Un prodotto nuovo Bene ragazzi Allora In descrizione vi lascio il link E vale pure di più Dello store online Bracemi ancora 001 Il codice d'acquisto E vi comprate Sta carne E io quando mangio Madonna mia Che cazzo è sta carne Porca mignotta Questo non lo bippa Non lo bippa Oddio mio Mi fai mangiare Un pezzettino Dammi la carta pure a me Eccola Eccola No Questa questa Dai Oddio Cos'è sta carne Vai Madonna mia Che cos'è Io intanto riassaggio Figura No vabbè Questa è una Tagliamo il cober Tagliamo il cober Il cober è una merda Tagliamo il cober Fammi valutare Dio ragazzi Madonna mia Cober Eccolo qui 200 euro al chilo Te era mai successo Il cober è meno saporito Ma sto in cazzo Porcaccia di quella Zozza ladra ragazzi Porcaccia di quella Zozza ladra Fabio Tu sei uno Che dovrebbe essere Arrestato Si arrestamolo Perché tu metterai Veramente a rischio Le coronarie Di tutta Italia Vogliono questa La bianca e nera polacca E taglia Invece la chiacchierata Rompeli Da quando sono arrivato Stamattina Fammi mangiare Dobbiamo mangiare Con sapere E non rompe E fammi sta carne Ma questo Tocca bippa a tutto Quanto sei delicato Tacci quanto cazzo È buona Ma hai rovinato E il cober No Hai rovinato Il cober Ma hai rovinato Il cober Sembra quasi Una cosa mi gusta Vi troviamo Il cober Adorabile Francesca Ti faccio presente Che il tuo ruolo In questi video È portarci da bere E ancora non è arrivato niente Facciamo pure serie E ora cassaggi annusi E poi piace da beve No? Le ragazze e le signore Vanno trattato bene Non così Non fate come me Nel frattempo ragazzi Io volevo dire Andrea Tu sei il proprietario Di questa Stamberga Uno dei tanti soci Uno dei tanti soci Vabbè Rappresenta la proprietà Grazie per averci ospitato Grazie a voi Tu c'hai la carne di Fabio C'hai la carne di Cali Soprattutto la carne di Fabio La carne di Fabio Galli Soprattutto la Galli di Fabio La Galli di Fabio La Galli di Fabio Vabbè Posto meraviglioso Ringrazio a te Tutto lo staff Da tua cucina Perché a volte Siamo imbatenti Hanno una pazienza mostrusa Grazie ragazzi Il vostro lavoro Dovete esserlo Bene 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 Grazie Torniamo a assaggiare Ciao Allora ragazzi Vi ho portato Vini dell'Aquila Siamo a Ciro a Marina In Calabria Gaglioppo in purezza Ok Questo è un vino Del 2016 14 gradi Guarda com'è bello Chiaro Elegante Questo ci sta da Dio Dai Senti di questo vino Ne hai parlato Super Samia ancora? Ne abbiamo parlato Quindi se vanno sul tuo canale Trovano Vini calabresi Ci tengo a dirlo Perché dobbiamo sfatare Questo mito Perché i vini calabresi Sono buonissimi E sono anche molto eleganti Carne giapponese E i vini calabresi Ragazzi Mangiate a Roma Sud Con Fabio Galli E Francesca È il top Alla salute Alla salute E invece poi Ci abbiamo qua La tintiglia Questa è la tintiglia 66 Di Claudio Ciprezzi Vidini autotono Del Molise 2012 Vi ho portato il top Di gamma Ragazzi Quindi Questo? Questa è tintiglia? Senti che tu hai il naso? E qua secondo me Ci sta bene La carne tua Madonna mia Datevi un pezzo Le carne di Fabio Datevi un pezzo Le carne di Fabio Diciamo che la nostra è finita È rimasto un pezzettino Di colbe È finita quella più buona? È come il vino Dice sempre per prima Come piace da morire In questo crossover Di Francesca Che annusa E cerca di trovare Le sfumature della carne Permetti di fare lo stesso Con i vini A me piacciono entrambi Non ti so dire Tecnicamente perché Ma a mio personalissimo La tintiglia molisana Sta una virgola avanti Diciamo che sono due vini Completamente diversi Completamente diversi Però con la carne di Fabio Che veramente Con mia grandissima sorpresa Ma anche Lo dico con ignoranza Perché comunque Non è che sono così Addentrata al mondo delle carri Ma il palato ce l'hai? È molto più saporita Sente molto più sapore Grazzessa Che non è una cosa brutta Ma valore aggiunto Rispetta la cobe E quindi La carne di Fabio Col tintiglia E il cobe Col vino calabrese Sì assolutamente Col calabrese Calabrese a Giappone Calabrese a Giappone E in Europa Madonna mia ragazzi Che esperienza Pazzesca Che spettacolo Ragazzi Alcune considerazioni finali Dal mio personalissimo Punto di vista Il cobe Lo conoscevo È una carne Che una volta nella vita Va mangiato Ma che Al terzo Quarto morso Comincia a stancare Per la sua eccessiva Grassezza Grassezza Che poi diventa Predominante E ha quello sprint in più Quando ci si mette Un pizzico di sale A quel punto Il cobe È oggettivamente Una carne interessante Però la selezione di Fabio Devo dire A un order vero Arretto Arretto botta E ti dà la possibilità Di mangiarli di più Oltre ad avere Ovviamente ragazzi Un costo Dieci volte inferiore Fabio Il cobe L'abbiamo pagato 200 euro Sì E l'abbiamo pagato La mia al massimo Arriva Una disossata Paragonabile E la cobe Da i 60 A i 70 euro Al chilo Quindi parliamo Ragazzi di un terzo Al quale va aggiunto Un ulteriore elemento La carne di Fabio Si può frullare Perché è in osso Il cobe Non si potrà mai frullare Perché è rarissimo Che un ristoratore Un macenaio Si metta a frullare Un cobe Che ha quel costo Praticamente impossibile Si può fare qualche esperimento Ma più per show Che per trovare Diciamo Un indirizzo gastronomico Interessante Anche perché C'è una motivazione principale Che è la vera frullatura Si fa in osso Esattamente Quindi arrivando Disossata Non c'è quella Protezione naturale Però Queste sono le mie parole Il mio punto di vista Personalissimo Adesso Di là Ho dieci fan Di Bracemi ancora Li facciamo assaggiare Contemporaneamente Le tre selezioni E decidono loro Ragazzi Arrivo da voi Allora Eccoci qua Se magna Se magna E il cobe ragazzi Queste sono le due selezioni Di sicuro Questo è il cobe Ok Allora E il cobe Qual è qui? Mamma mia Questa è il cobe Questa è le altre Tre selezioni Di faccio È rimasta solo La cicoretta Questi fan Mi danno soddisfazione Comunque ragazzi Ditemi la vostra Su questo confronto La polacca È veramente Glamourosa Mentre la danese Se vuoi mangiare tanto Tipo un chilo Pazzesca La cobe La terza Però è sempre Glamourosa Su me il danese Aveva quel tocco in più Di buonissime Incredibile Posso dire una cosa? Ma quando cazzo È buona? Sì ma qual è questa? Questa è la polacca È la polacca Tu che sei abituato A rosticini e pecore Dimmi un po' Una roba del genere L'avevi mai mangiato In vita Ma me Spettacolare Sono la rosticini Giusto Tatticce Ronza Però questo È favoloso Amico mio E oggi ti abbiamo offerto Un pranzetto Che stava sui 200 euro Parliamo di tre carni Di altissimo livello La cobe è molto buona Però dopo un po' Stufa Mentre quell'altra Tutto la danese È proprio buona E proprio ti ci sfameresti La danese Buona era La cobe Me la immaginavo Molto più saporita Invece È proprio Identità La carne così Una spugnetta Molto grassa Due tre morsi Molto piacevole Poi Ti riempie Proprio Impegnativa La più buona Era la polacca Mentre invece La danese E la cobe È abbastanza diversi La cobe Molto più grasso Questo che si scioglie In bocca Sicuramente più dolciastra Avete sentito Il mio parere Il parere di Francesco Il parere di Fabio Ma gli era facile Oste com'è il vino Il vino è buono Quindi se lui La sua carne Ovviamente È la migliore del mondo Quello che mi interessava Era sapere Il parere vostro E l'abbiamo sentito Credo di essere stato Esauriente Ragazzi In descrizione Trovate tutti i link Tutte le informazioni Un abbraccio E che l'abbraccio Sia con voi Ciao E che l'abbraccio